Ciao a tutti ragazzi e come al solito sono Frankie ed oggi sono qua per questo nuovo video e siamo ritornati per una nuova puntata di Frankie Time questo vlog domenicale dove parliamo delle varie news, dei vari update, degli aggiornamenti sul canale e come avete potuto notare sto dando un po' di miglioramenti all'inquadratura sempre sotto i vostri consigli e continuate a darmi perché ci voglio lavorare parecchio su questa inquadrura che mi pare molto figa, in realtà non si sa per quale motivo non l'ho mai usata in realtà il motivo c'è perché io utilizzo sempre la webcam per registrare tutti i video mentre naturalmente sta lì, quindi adesso io sto usando il telefono messo su un treppiedi, messo su un adattatore insomma un casino di roba, però possiate capire insomma per ora nell'attesa che abbia la reflex utilizzo il telefono che è un S3 quindi quali sono gli aggiornamenti importanti del canale? appunto sto lavorando un po' sul rendimento grafico del canale che secondo me è importante perché bisogna dare una piccola svolta e anche perché mi sono detto non posso troppo limitarmi nell'attesa di prendermi la reflex perché comunque sia, i genti mi dicono eh, quando la prendi, quando la prendi costa 400 euro l'ho trovata addirittura in offerta però i soldi non crescono sugli altri e quindi prima che ci arrivi manca poco però appunto ci devo arrivare ma comunque sia, news importanti, mi sono tagliato i capelli questo è proprio da aggiungere nella lista delle cose che non me ne frega niente però, altra cosa importante potete iniziare a farmi le domande per il Frankie Time perché ogni domenica adesso cercherò di far uscire questa serie appunto di Fatty Time, Vlog, insomma è tutto un mischiume che appunto sarà Frankie Time che esce ogni domenica alle 13.30 e si parla del mondo, è incredibile, è fantastico quali sono però le brutte notizie? purtroppo ricomincio a scuola da martedì quindi, come ho scritto anche sulla pagina Facebook se non seguite siete delle persone perfide volevo chiedere dei chiarimenti su, che ne so, l'orario di uscita dei video se, quando farli uscire, tutti i giorni, non tutti i giorni, che tipo, che non tipo perché comunque sia, volevo cercare di rendere il mio canale su, non dico un binario fisso però ma su una certa tipologia quindi siccome i gameplay, non dico che stancano però magari voglio fare più cose appunto alla Funny Moments che vi piacciono quindi GTA c'è, rimane perché è in continuo aggiornamento ne avete avuto anche la prova con il video di venerdì però sicuramente una cosa a cui terrò molto sarà poi portare molti, molti, molti video in compagnia perché sono poi quelli che sono più divertenti e poi naturalmente portare Frank News, Frank Curiosity, Frank Man che lo voglio far ritornare però nel vecchio stile cioè un argomento legato al mondo dei videogiochi, della tecnologia però che sia anche, diciamo così, ambivalente per argomenti invece di vita quotidiana cioè deve essere un video che punta sia a chi è appassionato di videogiochi ma anche a chi non lo è perché alla fine non è come spiegare una cosa a chi non lo capisce sta lì secondo me anche più l'impegno e forse anche più la gratificazione nel vedere magari uno che dice guarda è un bel video anche se a me di videogiochi non ne capisco niente quindi detto questo ragazzi io non mi voglio dilungare troppo perché non ho nessuna domanda a cui rispondere quindi mi raccomando fatemelo qua sotto utilizzando l'hashtag perché fa figo l'hashtag FrankyTime scrivetemelo qua sotto e nient'altro ma detto questo noi ci vediamo domani alle 13.30 con un nuovo video vi ricordo di lasciare un bel mi piace in caso questo video vi fosse piaciuto e noi ci vediamo domani sempre alle 13.30 perché in realtà lo ripeto è una cosa brutta comunque sì come sempre dritto per dritto e noi ci vediamo domani alle 13.30